A volte mi sembra di essere invisibile. Non mi sono mai sentita così quando abitavo nella casa sul lago. Il posto nel quale più mi sono sentita me stessa. Ho comprato una casa sul lago. È bellissima! Caro neoproprietario, benvenuto nella sua nuova casa. L'amerà come l'ho amata io. Vuol dire che ha abitato qui? Per anni nessuno ha più abitato in questa casa. Così, tanto per sapere, laggiù che giorno è? È il 14 aprile 2004. No, è il 14 aprile 2006. È lo stesso giorno di due anni differenti. Può accadere una cosa del genere. Warner Bros Pictures presenta... Questa casa crea una connessione. Un amore. Com'è il tutto il mondo? Il mio è bellissimo. Vorrei fossi qui a godertelo con me. Senza limiti. Anche se è chiaramente impossibile e sorprendente. È un luogo che si estende oltre il tempo. Mi manca la casa sul lago. I suoi albi. Grazie, Alex. Ian O'Ribs. Era più reale lei di qualsiasi altra cosa abbia conosciuto. Sandra Bullock. È come avere una storia con uno che è lontano. Scegli un posto e io ci sarò. Promesso. È come? Non è destino, forse. No, non dire così. Deve essere successo qualcosa. Un uomo che non potrò mai incontrare. Ed è invece a lui che vorrei dare il mio cuore. La casa sul lago del tempo. La casa sul lago del tempo. Grazie a tutti.